Come hai trovato l'ambiente vastese Sponda Virtus? Bene, è un ambiente sano, si vede dall'accoglienza, dalle persone competenti che ci stanno e che allenano questi ragazzi e per noi è sempre un piacere venire a confrontarci con altre realtà, anche se poi noi giochiamo sempre sotto i dama è giusto che sia così e quindi le difficoltà per noi aumentano sotto l'aspetto dei contrasti, della velocità della gamba che ha un 2009 contro un 2010 però noi ci ricerchiamo questi tipi di amichevoli e quindi abbiamo incontrato una squadra che gioca bene, che si è fatta valere e quindi abbiamo avuto difficoltà, come è giusto che sia, però per me contano altre cose. Da quanti anni mancavi a Vasto? Da tanti anni a Vasto perché non ho avuto più l'opportunità di venire né come allenatore né come ex calciatore poi dopo Vasto io ho smesso e quindi mi riporto dietro i ricordi di quell'annata fantastica che tutti sappiamo e conosciamo poi dopo sono andato a divertirmi così in società piccolina dove davo una mano magari a qualche amico mio che faceva il presidente però sì la carriera agonistica è stata l'ultima annata quella in C2 con la Vastesi e poi dopo, ti ripeto come ho detto, dei ricordi bellissimi e soprattutto quel giorno di Tolentino difficile da dimenticare come tante altre belle esperienze con i miei compagni, con i dirigenti, con la città, i tifosi quindi per me è stato un piacere. Spero che un domani possa ritornare al campo principale di Vasto per incontrare di nuovo tutti i tifosi. Sul secondo dischetto, Mario, cosa hai provato? Perché di solito il secondo rigore è difficile. Sì, infatti io all'anno i ragazzi dico sempre il primo è quello più facile, mi faccio tirare sempre due rigori di fila, di continuo perché magari può capitare che l'arbitro vi fa ripetere il rigore, il primo magari l'ha segnato e vai un po' più morbido e mi faccio sempre battere due. Al di là di questo, sì, a Tolentino avevo fatto il primo rigore, poi capitò il secondo mi sono detto, incrocio, tiro forte, poi ho detto no, se devo sbagliare, devo sbagliare come di solito tiro i calci di rigore aspettando sempre il portiere e poi magari per qualcuno può avvenire un crepa a cuore perché la palla è lenta aspettando il portiere, però ero convinto e deciso di fare gol e poi è stata l'idea giusta. Adesso segui ogni tanto? Sì, seguo le difficoltà di tutte le società dilettantistiche, leggo, certo non più con frequenza però sicuramente mi informo nei risultati generali partendo dall'alto e andando al basso di tutte le società in cui magari sono stato e sono ancora più legato. Quindi io spero che possa di nuovo a basso, come posso dire, calcare di nuovo quei palcoscenici, quegli stati belli per avere soddisfazioni un po' più importanti. Non è che non lo siano giocare in questi campi, però sappiamo tutti che è bello magari fare la Serie C, uscire in tv, guardarsi una partita in streaming e tante altre cose. e poi la bellezza del calcio professionistico è veramente un'altra cosa.